Buonissima, buonissima! Oggi frittate i carciofi! Per prima cosa tagliate i carciofi e li cuocete in padella. Mettete uno spicchio d'aglio e l'olio e lo fate scaldare. Poi aggiungete carciofi tagliati, sale, prezzemolo e acqua. E fate cuocere per 10 minuti finché saranno teneri. Quando i carciofi sono cotti, sbattiamo l'uovo e ci mettiamo il parmigiano e il sale. E i carciofi che abbiamo cotto prima. E mescoliamo bene. Ora potete decidere se cuocere la frittata o in padella o al forno. Noi per fare prima la facciamo in padella. La facciamo cuocere prima da un lato e poi dall'altro. Buonissima! Davvero buono, Marti!